Emi, finisce anche questa puntata di Fanny Moon, caro Daniele, com'è stato stare anche questa settimana con noi? È stato bello ma triste perché è finito. Però vedi, mi sembra che quando uno viene a fare Fanny Moon con noi il tempo vola. Sì. È passato un'ora, in realtà sembra veramente quanto? Dieci minuti. Nemmeno? Cinque, guarda. Ma come si dice, gioisci perché c'è stato e non tritinare a essere triste perché è finito, quindi gioiamo perché c'è stato. Mi sta spaventando perché dice più parole del solito, quindi il conto che arriverà alla fine sarà bello salato. Bene, bene. Finisce purtroppo questa puntata, ma prima di salutarci, i soliti riferimenti, visto che ti vedo in forma, diciamoli. Allora, ci trovate su Facebook, su YouTube e i numeri di telefono sono in sovraimpressione. Perfetto, proprio lapidario, la puntata con lui durerebbe 30 secondi. Perfetto, vorremmo fare però delle pillole, è una bella idea. Potremmo fare delle cose su YouTube, niente male. Bene, allora ricordiamo che quel numero di telefono che vedete in sovraimpressione a che cosa serve? Per contattarci. Perfetto, bravissimo, anche questo l'ha azzeccata, quindi queste le sa. Quindi se volete partecipare con noi in trasmissione, diventare nuovi volti di questa fantastica trasmissione, potete farlo. Quindi se siete aspiranti conduttori o conduttrici e volete partecipare con noi, potete contattarci e magari diventerete il nuovo volto di Fanny Moon. Farete la spalla anche qui a Daniele, no? Grazie. Prego. Almeno mi liberate di lui. Eh, sono io che lo blocco, diciamo, di tarpo le ali. Bene, oppure se avete un'arte da far conoscere, quindi se siete cantanti, ballerini, attori o attrici o gruppi musicali e volete farvi conoscere, potete farlo. Noi nel frattempo ci troviamo in un posto bello affollato, diciamo, sembra quasi carnevale, ma non lo è. Non lo è carnevale. Non lo è. È un posto senza tempo. Senza tempo, bello questo, questo mi piace. È vero, perché è un posto senza tempo. Però, 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 diciamo anche che se vi siete persi la puntata e volete vedere qual è il posto senza tempo, potete farlo tramite il nostro Facebook e YouTube. Quindi mettete un bel pollicione sul nostro Facebook e iscrivetevi al nostro canale YouTube, così potete rivedere tutte le nostre puntate, tutti i nostri servizi e anche i tuoi servizi. Perché adesso... Certo. Ci saranno anche i miei servizi. Mi raccomando, non mancate. Donne all'ascolto. Donne all'ascolto. Perché ricordiamo, tu sei singolo. No. Era detto così, tanto per dire una cosa in più. Benissimo, allora la puntata purtroppo, ahimè, volge al termine. Salutiamo il pubblico da casa e noi ci vediamo. La prossima volta. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti. Moon.